Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e siamo arrivati alla lezione 34 della Masterclass di Microsoft Access. Allora, nella lezione precedente avevamo visto come avviare una macro posta all'interno di Microsoft Excel lanciandola però da un comando, da un input inviato da Microsoft Access. Con questa lezione di oggi andremo a vedere l'esatto posto, quindi da Excel per i nostri motivi andremo a creare una funzioncina che permetterà di lanciare un impulso a Microsoft Access in modo che vada poi ad aggiornarsi con una macro che è contenuta all'interno di se stesso. Però l'input questa volta lo manderemo da Excel verso Access, quindi proprio l'opposto. Questa è una tecnica utile perché magari avete un file Excel, non siete ancora strutturati ed automatizzati con un sistema di schedulazione intelligente eccetera e magari avete il vostro report Excel che per poter essere aggiornato aspetta praticamente le trasformazioni che fa un ETL di trasformazioni come può essere Microsoft Access. Ovviamente c'è sempre Power Query dove potete fare delle trasformazioni però non sempre con Power Query riuscite sempre a fare tutto perché ricordiamoci Power Query lavora in RAM finché non concludete tutti i passaggi. Quindi tante volte la copiata Microsoft Access e Power Query piuttosto che ancora meglio SQL più Power Query aiuta molto a fare le eventuali trasformazioni di dati di cui avete bisogno. Quindi ipotizziamo che avete il vostro file Excel, il vostro report che aspetta i dati dal database access però non andiamo a fare due passaggi manuali nel senso andiamo nel database access, aggiorniamo tutto, aspettiamo che finisce poi quando è finito andiamo sull'Excel e andiamo ad aggiornare il nostro report Excel che potremmo fare un input che parte dall'access come vedevamo nella lezione precedente però questa volta lo facciamo da Excel. Questa tecnica può esservi utile anche per qualsiasi altra cosa di cui voi abbiate bisogno comunque andremo a lanciare appunto un aggiornamento di access da Excel. Bene, finiamo appunto con queste chiacchiere qua andiamo nello specifico e vediamo come funziona. Allora, in access che cosa ho fatto? Praticamente ho semplicemente fatto un paio di macro dove faccio una macro che viene lanciata da Excel e riporto il message box che la macro è stata avviata. E poi come abbiamo visto nella precedente lezione anche qui passo dei parametri da Excel ad access quindi vedremo come si fanno a passare dei parametri utilizzando il file VBS come abbiamo visto nella precedente lezione. Allora, chiudiamo access e andiamo ad aprire il nostro file Excel che è qui dove c'è il core della nostra prima macro. Quindi noi abbiamo appunto il file Excel e qui praticamente abbiamo ad esempio il Visual Basic e qui appunto c'è praticamente la routine che va a fare il lancio della macro su access. Qui c'è una particolarità. Allora, rispetto a quello che vedevamo prima dobbiamo attivare una cosa che su access non serviva. Praticamente io ve l'ho scritto qua su, ovviamente in descrizione trovate gli allegati con i file per esercitarvi e tutti i codici pronti. Dovete attivare questa libreria. Questa è una libreria standard. Tendenzialmente io tendo sempre a lavorare e a costruire il tutto senza le librerie. Le librerie tendenzialmente non mi piacciono. Però in questo caso qua è una libreria comunque standard che quindi non cambia e è comunque una libreria sicura. Quindi bisogna, come si fa ad attivare questa libreria qua? Bisogna andare nel menu strumenti qua su, riferimenti e qui vedete io ho attivato Microsoft Access 16. Adesso lo disattivo così vi faccio vedere come trovarla. Strumenti, riferimenti, ok qui non c'è. Qui premiamo la M, ok così ci porta giù subito sulla M e la troviamo praticamente subito. Eccola qua. Microsoft Access 16 Object Library. Ok, dobbiamo attivarla. Altrimenti il codice che ho creato sotto non funzionerà perché quando noi andremo a definire questa cosa qua che andremo ad aprire un'applicazione Access lui non capirà che cosa stiamo cercando di fare perché non riconosce i comandi. I comandi sono appunto contenuti dentro questa libreria quindi dobbiamo andare ad attivarla. Una volta che è stata attivata è attivata per questo specifico file non è che viene attivata per tutti i vostri file. Quindi su ogni file dovrete andare ad attivarla se poi andrete ad interagire con Access. Perfetto, allora che cosa facciamo qui? E' un po' speculare a quello che vedevamo nella precedente lezione. Quindi ho fatto praticamente qui una costante dove definisco praticamente questa variabile qua e gli do il percorso, quindi il percorso intero di dove è il mio file Access. Quindi percorso più nome del file più estensione ricordatevi l'estensione altrimenti non funziona. Poi come vedevamo praticamente nella precedente lezione e qui definisco una variabile dim.apaccess.asnew.access.application. Gli dico che praticamente apro una nuova applicazione di Access. È un tipo di variabile che questa qui definisce un'applicazione di Microsoft Access. Poi la devo configurare quando apro questo tipo di variabile quindi gli dico set.apaccess, quindi la variabile che ho definito sopra di tipo Access e gli dico guarda Access è un Access applicazione quindi ne apro una e poi la configuro e gli dico Access application. Poi gli dico guarda access.apaccess.com e qui cambia perché prima avevamo workbook.open se non ricordo male. Invece adesso dobbiamo scrivere open current database quindi apriamo il database ma quale database? Quello che c'è nel percorso che abbiamo definito qua sopra nella costante quindi lui andrà ad aprire aprirà un'applicazione Access e poi aprirà appunto questo database che abbiamo definito qua che appunto lo riportiamo qui all'interno delle tombe poi qui abbiamo la solita proprietà visibile quindi prendiamo il nostro oggetto Access lo rendiamo visibile quindi gli diciamo true così lo vediamo nel caso succedano errori vedremo il debug e vedremo dove si è fermato e poi con apaccess.run ok gli dico qui il nome della funzione Access che dovrò andare a lanciare quindi dentro l'Access io avrò una sub aggiorna che si chiama appunto aggiorna quindi andrà a lanciare questa specifica macro quindi questa specifica funzione non macro ma funzione visual basic poi gli dirò quando hai finito perché lui andrà su Access quando avrò eseguito questo codice qua e finché Access non avrà finito lui non andrà avanti con il codice successivo che è presente all'interno di Excel quindi questa aspetta sempre che il codice finisca dall'altra parte per ritornare su Excel poi qui gli dirò sempre apaccess close current database quindi lo chiude il database quindi andrò a chiudere questo database che ho aperto ma rimarrà comunque aperta l'applicazione quindi gli devo dire anche guarda chiudi anche Access con un bel quit e poi metto in noting praticamente setto in noting la mia applicazione ed esco poi ovviamente qui ci ho messo anche on error go to error finish quindi poi la gestione degli errori ve la sofisticate voi come meglio credete ma comunque questa è un'etichetta quando se succede un errore che magari metto la ricerca di un database che non esiste ok il codice visual base andrebbe in errore e continuerebbe a eseguire codice da questa riga in poi perché salterebbe tutto il resto perché ha trovato un errore quindi qua la gestione degli errori poi la lascio a voi vediamo comunque questa prima funzioncina quindi vedete faccio F8 faccio F8 adesso qui si illuminerà comparirà praticamente l'iconcina F8 lo rendo visibile e ecco che diventa visibile vedete eccolo qua se adesso faccio F8 qui appunto c'è il modulo aggiorna vedete function aggiorna quindi lancerò questa macro qua e mi dirà appunto e mi comparirà appunto il codice il message box adesso lo chiudo e torniamo di qua F8 ecco che vedete il cursore è passato di qua quindi qui resta in attesa vedete clicco ma non mi lascia fare niente resta in attesa finché finisco i passaggi in access F8 ecco che mi darà l'ok chiudo la funzione e ecco che il cursore è tornato su Excel adesso qui andremo a chiudere il database vedete F8 mi ha chiuso il database ma mi ha lasciato l'applicazione aperta F8 ho quitato access e chiudo praticamente nel modo corretto praticamente la variabile che ho definito sopra di tipo oggetto di tipo access application faccio F8 e ho concluso ovviamente questo è un sistema che permette il lancio però dobbiamo aspettare il ritorno del cursore quindi il cursore esegue tutto quello che c'è su access e solo poi Excel potrà andare avanti ipotizziamo che dobbiamo lanciare magari 10 database per non so quale ragione ma comunque dobbiamo fare in modo che noi lanciamo la macro su access ma l'Excel deve andare avanti immediatamente senza aspettare il ritorno del cursore da access quindi come abbiamo visto nella precedente lezione dobbiamo utilizzare un visual basic quindi dobbiamo fare un file di appoggio eccolo qua adesso noi facciamo quello un po' più complicato nel senso che è molto simile a quello che abbiamo visto nella precedente lezione però nella precedente lezione ve ne facevo vedere uno senza parametri e uno con il passaggio di parametri dato che abbiamo già visto come funziona la precedente lezione vi faccio vedere semplicemente quello più complesso quello con i parametri eventualmente se avete difficoltà e non avete visto la lezione precedente andate a vedervi la lezione 33 di questa masterclass allora questo è il VBS quindi diciamo che cosa fa praticamente la routine in visual basic gli dice guarda ho la mia funzione definisco un percorso che è dove praticamente io ho il mio database ok quindi percorso ok definisco il percorso dove ho il database più il nome del mio file DB che è quello che noi dovremmo andare a passare come parametro perché all'interno del mio visual basic dopo lo rispiego molto velocemente qui gli dico guarda apaches open current database come abbiamo visto nella prima lezione qua su alla fine le istruzioni sono molto simili ma si differenziano un pochino uso sempre questa proprietà qua quindi open current database anche qui nel txt e qui li passo path che mi arriva appunto da una variabile che arriva da Excel quindi io qua sto definendo path che arriva da Excel poi che cosa gli dico così capirete anche perché ho scritto percorso e non l'ho fatto uguale sopra con un unico percorso e nome file par praticamente gli dico macro ms access avviata questo è un parametro che passo proprio all'access quindi quando io aprirò l'access qui arriverà praticamente un parametro ok vedete ho fatto una funzione dove passo anche un parametro qui c'è il testo che lo definisco come stringa quindi quel testo che abbiamo appena visto di là passerà qui e poi mi mostrerà il message box con quel testo che sta arrivando da Excel e quindi arriverà appunto macro ms access avviata poi avvio il visual basic script quindi faccio uno shell vs script ok attenzione alle virgolette che qui c'è uno spazio lo spazio è l'indicazione per il visual basic che indica la seconda istruzione la terza istruzione il primo parametro il secondo parametro e così via quindi se avete percorsi nel vostro richiedere di dove è posizionato il vostro file piuttosto che dove è posizionato il vbs questo può essere un bel problema perché dovrete gestirveli i percorsi utilizzando delle variabili aggiuntive non utilizzate mai dei percorsi non fate ms spazio access imparate sempre quando programmate a non fare nulla con i spazi perché poi è complicato ad andare a gestirli ad esempio in questo caso il visual basic script lo spazio è un parametro è un'indicazione quindi non possiamo proprio utilizzarlo se no diventa appunto più difficile quindi noi facciamo vbs script facciamo uno spazio perché dopo gli facciamo appunto lo spazio gli diciamo il percorso e il nome del visual basic script che vogliamo andare a lanciarla in questo caso il vbs è nel stesso percorso di dove è posizionato il database access ecco perché ho definito una variabile percorso così lo utilizzo per definirmi il percorso di dove è il database ma lo utilizzo anche per poi dirgli guarda il visual basic script che voglio lanciare è nella stessa folder praticamente quindi qua ho semplicemente cambiato l'estensione anche qui vedete faccio vbs script spazio end passo la variabile percorso quindi vado qua faccio end poi qui ovviamente non c'è nessun spazio perché devo continuare il testo che c'è alla fine del percorso e ci metto il nome del file però in fondo del file devo ricordarmi dopo l'estensione ricordarsi l'estensione di mettere anche uno spazio perché devo andare a passare i parametri che passerò ad Excel a Microsoft Touch e al visual basic script quindi passerò il percorso del database che voglio andare ad aprire in modo questo perché lo faccio perché così posso utilizzare un visual basic script per qualsiasi cosa non serve che mi faccia un visual basic script per ogni database che devo andare a lanciare gli passo il percorso del database che voglio lanciare in modo dinamico ok potenzialmente gli potrei dire anche come parametro il nome della funzione che voglio andare a lanciare si tratta solo di aggiungere un nuovo parametro qua giù e definirlo con il nome della funzione così poi voi fate un visual basic script compatibile per qualsiasi lancio che andrete a fare quindi qui facciamo appunto uno spazio ok end gli passo il primo parametro poi faccio end e creo uno spazio perché gli passo il secondo parametro lo spazio come vi dicevo è quello che identifica un'istruzione da un'altra istruzione spazio non si può utilizzare altro quindi qua gli passo il percorso del database e il testo che voglio passare ad access che mi mostrerà nel message box perfetto quando ho fatto questa cosa qua che cosa succede? lo script arriva qua quindi qua che cosa definisco? definisco anche qui le variabili quindi gli dico dim ok che è come su access gli dico guarda fammi degli argomenti obj questo nome che ho deciso io ma potete chiamarlo come volete e poi ci metto le variabili ci metto path path e parametro poi gli dico guarda setta questo argomento come visual basis script arguments quindi questi sono degli argomenti che mi stanno arrivando infatti li dico queste praticamente sono le variabili che sono state definite dentro il visual basis script ma non sono quelle che stanno arrivando dall'excel quelle che stanno arrivando dall'excel si chiamano path e parametro ok quindi scusate queste sono quelle dentro vbs quelle che stanno arrivando da excel sono argobj0 argobj1 0 è il primo che passate quindi è questo e l'1 è il secondo se ce ne fosse un altro di parametro sarebbe il 2 il 3 il 4 e così via quindi quassù definisco le variabili che voglio poi utilizzare all'interno del mio visual basis script gli argomenti sono gli argomenti che mi arrivano dall'esterno quindi questi qua eccoli qua quindi 1 2 e definisco appunto le mie variabili non posso utilizzare questi argomenti sotto ma altrimenti si rischia di fare casino è sempre meglio definirli all'interno del visual basis script poi chiudo tutti gli argomenti esterni quindi i parametri che mi sono arrivati qua li chiudo perché non mi servono più li ho messi in panza dentro il mio visual basis script e poi faccio delle cose simili a quelle che facevo praticamente nella prima routine simili però non proprio uguale qui di fatti faccio set access app ok create object e qua gli dico access application qui ad esempio noi avevamo fatto create object avevamo detto as new access application vedete questa è praticamente la differenza invece nell'utilizzo basic si fa così create object quindi dovete scrivere questa cosa qua poi gli dici guarda rendilo visibile come abbiamo fatto prima e poi mi avvi praticamente su questo questo database che è presente a questo percorso che mi è arrivato dai parametri di excel dopodichè faccio access app run come qua vedete access app ok app access punto run e ci metto il nome della macro ecco che qua ho schiantato dentro al visual basic il nome della macro ripeto posso fare un parametro anche per passare questa informazione poi per passare il parametro ad access faccio una bella virgoletta qui qui non ci sono spazi vedete faccio una virgoletta e faccio cstr passo un'informazione di tipo stringa va sempre definito che cosa gli sto passando all'interno delle parentesi ci metto il parametro che mi sta arrivando da excel vedete parametro che l'ho definito appunto qua parametro l'ho chiamato parametro di proposito su excel l'ho chiamato par per farvi vedere che non è questo quello che arriva ma è la variabile che ho definito qua che è argobj questo è il par di excel quindi metto il parametro e lui passerà questa istruzione che è appunto questo qua che abbiamo scritto qua poi cosa faccio quando ho passato il parametro access va avanti per la sua strada quindi qua faccio quick quando ha finito l'access e mi quitta l'access però nel momento in cui io lancio questa istruzione qua adesso vi faccio vedere anche un esempio msgbox ok facciamo proprio un messaggio ci mettiamo del testo io adesso lo lancio vedete faccio f8 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 vedete il cursore è già stato rilasciato sta andando avanti invece l'access vedete che lampeggia perché l'access mi ha passato appunto macro ms access avviata che è il parametro che noi avevamo qua quindi access è ancora in attesa il cursore qui però excel è andato avanti quindi può fare altre istruzioni mentre access fa i fatti suoi e fa quello che deve fare quando premo ok access semplicemente viene chiuso ma non mi restituisce il cursore perché lui proprio ha terminato di fare quello che doveva fare excel intanto è andato avanti bene direi che anche con questa lezione abbiamo visto tutto se avete qualche dubbio magari guardatevi anche la precedenza la precedente che spiego praticamente le stesse cose ma faccio vedere alcune proprietà che sono un po' diverse da queste per il resto praticamente è tutto molto molto simile come sempre se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo video a presto ciao